metto la modalità fantasma adesso adesso tra un po ci stanno delle belle persone beh oddio senta signora me lo da un attimino affindi bene mi creda ok vai ma cosa vuole questo ma no ma fa schifo questa macchina non tiene nulla la strada ecco perfetto inseguimenti e dove trovarne mi ha buccato la gomma mi sa vai 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 va bene adesso mi hai rotto le palle però è allora 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 adesso mi hai rotto veramente le palle ecco ma non lo so è che era ora che c'è che crepavi è brutto figlio androcchia ti fotto pure l'auto che fa pure schifo poi tra l'altro sembra un carro da morto ma la vendetta è stata fatta